Salve a tutti! Voi mi chiederete, ma che cavolo stai pubblicando a bici? Lo sai che la serie Random Gameplay non ti rende come visualizzazioni? Vero? In tutta sincerità, non me ne frega una sega. Questo video è il proseguo di quello precedente dedicato ad Elgate London. Questa volta però daremo un'occhiata al progetto Revival. Revival altro non è che il proseguo autonomo ed in single player dello sviluppo di questo gioco da parte della community dei suoi giocatori dopo il fallimento della Software House che lo ha sviluppato è la cessione dei diritti di utilizzo ai coreani che ha portato alla nascita di Elgate Global. Con questa moda sono stati corretti molti bar del gioco ed è stato cambiato radicalmente il gameplay. Se non avete già visto la mia recensione sul gioco vanilla, la trovate nella descrizione del video assieme al link per raggiungere il forum del progetto Revival e ai link di download per la mod. L'installazione della mod la vedremo dopo aver visto un po' di sane mazzate. Il primo cambiamento lo state vedendo ora. Grazie a questa mod i nemici sono molto più forti e il gameplay è molto più frenetico. Inoltre le classi di giocatori sono state ridotte da 6 a 3. Il nuovo templare unisce le caratteristiche del maestro di lame e del vecchio templare, il cabalista unisce quelle di invocatore e mago e il cacciatore unisce quelle del tiratore scelto e dell'ingegnere. Queste nuove classi condividono equipaggiamento ed abilità delle due da cui derivano. In questo momento io sto usando il cacciatore vedete come, oltre al lanciagranate, posso utilizzare un robot da combattimento come l'ingegnere. Il Gate Revival ha anche sbloccato alcuni contenuti, come le tinture, che non erano disponibili subito nel gioco originale. Con l'occasione di questo video ora vi mostro come modificare le armi del gioco. Cosa che non avevo spiegato nel video scorso per mancanza di tempo e che funziona anche nel gioco originale. Per aggiungere un potenziamento ad un'arma vi basterà prendere quest'ultimo dall'inventario e trascinarlo in uno degli slot disponibili. Ogni arma ha differenti tipi e disponibilità di slot. Questi slot possono infatti ospitare munizioni, razzi, carburante, tecnologie o reliquie magiche. Ogni modifica aggiunta fornirà quindi le sue proprietà all'arma che la equipaggia. Il modificatore deluxe che avete appena visto vi permetterà pagando del palladio di togliere tutte le mod ad un'arma. Nelle mod revival si paga sempre una sola unità di palladio, nel gioco originale si paga di più se l'arma è più potente. La seconda macchina vista subito dopo aggiunge a caro prezzo proprietà speciali ad un'arma senza usare mod. Il prezzo aumenta con la potenza dell'arma e la rarità del potenziamento. La nanoforgia permette invece di fare dei potenziamenti usando il materiale proveniente dalla demolizione di altri oggetti. Gli oggetti demoliti producono tutti materiale di scarto. Demolendo gli oggetti dell'ingegnere si ottengono anche componenti tecnologici, demolendo quelli del templare frammenti runici e quelli del cabalista schegge benedette. Le controparti rare di questi materiali si ottengono demolendo gli oggetti rari. I nanoshard, anch'essi necessari per fare gli upgrade, si trovano invece come drop di alcuni boss o in giro tre livelli. Ogni potenziamento consecutivo richiederà sempre più materie prime. I primi due potenziamenti su un oggetto sono sicuramente efficaci, mentre i successivi possono fallire, diminuendo la potenza o anche distruggendo l'oggetto che si tentava di potenziare. I componenti di scarto possono poi essere utilizzati da alcuni NPC per craftare modo per le armi. Per demolire un oggetto è sufficiente cliccarci sopra col tasto destro del mouse e selezionare l'icona a forma di vite. Anche il cubo speciale che la mod Revival fornisce a inizio gioco consente di craftare oggetti. Infine vediamo l'installazione della mod. Per prima cosa installate le ultime patch rilasciate dal team originale del gioco. Dovete installare sia la patch SP sia la MP e riavviare il gioco. Subito dopo installate il mod manager. Per avviare il mod manager cliccate il collegamento che vi apparirà nel desktop e vi troverete davanti questa finestra. Nota. Le patch originali sono molto grosse. Vi conviene scaricarle tramite il torrent che vi ho fornito e tenere il torrent in seed. Se avete problemi col download contattatemi, provvederò io a rifare l'upload. Installato il mod manager andate su Options e poi su Program Settings. Una volta li spuntate quindi l'opzione Expert Mode per permettere l'installazione delle mode cliccate su OK. Nella finestra principale cliccate quindi su Install Mode Package. Vi comparirà questa finestra. Ora cliccate su Continue. Cliccate quindi su Select Package. Selezionate quindi il fallo zippato contenente la mode Lost London che avrete già scaricato dai link che vi ho fornito. Il pacchetto con gli add-on lo installeremo dopo. Nella schermata successiva cliccate ancora su Next. Se tutto è andato bene la mode ora è installata. Vi comparirà questo pop-up e cliccando OK vi si aprirà un blocco note con tutte le operazioni eseguite elencate. Volendo potete ancora installare gli add-on. Per farlo fate la stessa cosa con il relativo zip e vi apparirà questo elenco. Con gli add-on potrete modificare la difficoltà dell'opzione Elite del gioco, la velocità del giocatore, la grandezza delle mappe generate casualmente e anche il numero di nemici da ammazzare in molte missioni cacciatore. Decidete quindi quali caratteristiche inserire nel gioco, facendo attenzione a non scegliere due opzioni della stessa categoria per non rendere imprevedibile il funzionamento della mode. Io nel gameplay di prima ho messo 100 nemici da ammazzare, mappe di grandezza normale, velocità fast e difficoltà Elite Sword. Confermate quindi l'installazione delle mod dopo aver letto questo alert e fatto i backup dei vostri salvataggi in modo da evitare malfunzionamenti e perdita di dati. Dopo quest'operazione anche gli add-on saranno installati e vi ritroverete il gioco modificato al prossimo avvio. Per finire, un piccolo accenno su Hellgate Global. Ho provato anche la versione coreana del gioco, e non mi è piaciuta. Fra i vari difetti, oltre ad essere free to play, c'è una grafica peggiorata rispetto al gioco originale, boss fortissimi che spavano dopo che ammazzi un certo tot di nemici e un sistema di autenticazione ed antifraude fastidiosissimo che chiede ogni volta che giochi di inserire un codice numerico. Mi ero solo sbagliato la volta scorsa dicendo che le mappe del gioco non sono generate casualmente, ma la mia impressione non è stata positiva. Specie confrontando questa versione del gioco con la mod Lost London. Da poco tempo Hellgate Global è stato approvato sullo Steam Greenlight. Il team di sviluppo ha infatti annunciato migliorie dal punto di vista grafico e ha già sviluppato l'espansione Hellgate Tokyo, con una ventina di nuovi livelli. Purtroppo ho ben poche speranze che Hellgate possa risorgere. Se fossi stato in loro prima di tutto avrei reso più vari gli ambienti facendo sviluppare all'utenza nuove porzioni di mondo con un apposito editor e utilizzando quindi Steam Cloud per variegare l'aspetto estetico e la giocabilità con queste nuove aggiunte, ma non credo lo faranno mai. Con questo vi saluto e vi do il solito arrivederci alla prossima.